Ciao a tutti, io sono Mia e vi volevo dire che farò un video dove allora voi nei commenti dovrete scrivere partecipo cioè no il video, un gioco, partecipo, frate parentesi il vostro nome di Roblox, chiusa parentesi, vicino il vostro nome in Real Life e poi praticamente faremo un gioco che io sarò un hacker su Adopt Me e voi fate finta che proprio non mi conoscete e chi mi tratterà meglio vincerà un coniglietto Raid e la mia amicizia per sempre e il vincitore lo annuncerò il 30 maggio 2023 alle ore 13 anzi no alle ore 15 e allora vi volevo dire questa cosa speriamo che in tanti partecipate grazie a tutti grazie a tutti